Ciao ragazze, allora siamo appena state a fare la spesa da Eurospin, questi sono tutti i nostri sacchettoni, abbiamo speso in tutto 93,41€, questo è lo scontrino, adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora abbiamo preso la cedrata, questa confezione da 4, pagata 2,29€ con infuso di cedri di calabria, con zucchero di canna. Poi, vai aiutami, dammi una mano, passami quella di surgelati, allora, se prendi lo scontrino almeno mi lasci i prezzi. Allora, di carne abbiamo preso un fetto di polla a fette, pagato 3,19€, poi gli hamburger, questi qua di scottona, black angus, quelli che prendiamo sempre. Mi sembra che costano sui 3€, 3€? No, 4€, allora abbiamo preso quell'altro tipo che costa di più. Poi, no, di carne, continuiamo con la carne, già che ci siamo. Poi abbiamo preso questa confezione famiglia di, all'incontrario, di Arista, suina a fette, pagata 4,57€ e mezzo chilo. E poi, bella bifteccona per Andre, pagata 5,92€ ed è 544, grammi. A bellino e bollino. Poi abbiamo preso i filetti di platessa impanati, questi sono 300, grammi dell'Atena, pagati 2,99€. Poi abbiamo preso i panciottini, quelli con funghi e mozzarella e prosciutto cotto e mozzarella, pagati 1,19€ l'uno. E poi il gelato alla nocciola, dolciando, mezzo chilo, pagato 1,99€. Igenizziamo questa roba, la si mette in congelatore e poi si ritorna. Poi 1,75€, sì, l'asciugatutto, sono 3 rotoli della Soft Dream. Poi sono 8 bagliolini, questi qua sono 60 pezzi, pagato 1,09€. E poi la cartagenica, 6 rotoli, sempre Soft Dream, la super morbida e profumata. In effetti profumati, sono atteggiati qui. Questa qui costa... Cartagenica 2,49€. 2,49€. Questa qui tra l'altro mi sa che da domani è un'offerta, non l'abbiamo presa a presto pieno. Perché il volantino parte da domani, che è il 29 ottobre. Poi ho preso i plum cake integrali, sono 6 pezzi. Era in offerta, giusto, 99 centesimi. C'erano anche le nastrine, infatti la prossima volta provo le nastrine. 1,79€ i frullini con gocce di cioccolato, buonissimi tutti qui. Qua ancora 700 grammi per la colazione. Poi per Andrea i frulli al cacao della Dolciando, pagati. 1,15€. Poi abbiamo preso. L'ananas a fette della Porto Sol. Questo qui però c'ha lo zucchero dentro, però non ce n'era altri, quindi... C'ha lo zucchero? Sì, c'ha un po' di zucchero, vabbè. Questa quanto costa? 1,05€. 0,9€. 1,09€. Poi la maionese. Anche questa 1,09€. Delizia dal sole. Ed è 500ml. Sì. Poi abbiamo preso. In offerta c'era questo succo qua, alla mela verde, poi vabbè c'era anche altri gusti. Da un litro e mezzo. Un litro e mezzo. Sì, un litro e mezzo. E veniva a 99 centesimi. Poi la finta Coca-Cola. Questa viene 39, no? 35. 35. Sbaglio sempre. Tanto lo stiamo igienizzando. Poi abbiamo preso 99 centesimi le tortiglie. Pacco da 250 grammi. Molto buone anche queste qui. Poi la lattuga. Trocadero. Ma già qui non c'è il foglietto. 70 centesimi. Poi. Di verdura c'era altro. No, di verdura non c'era altro. Sì, c'erano funghetti. Forse c'era un'altra posta. Vabbè. Fanno vedere dopo. Allora, di affettati abbiamo preso 2 di prosciutto cotto. Questo qua ha 2% di grassi. Pagato. 1,69 euro. 1,69 euro anche il petto di pollo. E poi la mortadella di Bologna. 150 grammi. Costa. 1,49 euro. 1,49 euro. Costa meno la mortadella. Questa è buona. Poi. Abbiamo preso la pasta sfoglia. Due confezioni. 85 centesimi. Ah già, fa anche il salame ungherese. Della bottega del gusto. Il salame costa 1,39 euro. Poi abbiamo preso lo stracchino. Questo qua sono due confezioni da 100 grammi. 1,15 euro. Poi di classici. Poi abbiamo ripreso i soliti ravioli con ricotta, spinaci ed erbette. Tre mulini. Sono 250 grammi. 1,69 euro. Poi. Poi. Mi sono presa i mini burger agli spinaci. Dentro ce ne sono quattro. Piccolini. Questi mi sembravano 1,69. Sì. Il formaggino, quello spalmabile. Abbiamo preso quello light questa volta. 200 grammi. Pagato. Pagato. Ecco. 75 centesimi. Sì, 75 centesimi. Poi Andrea si è scelto questo qua. Sì, poi me le mangio a tutti lei. Sì, un metà è sempre la colpa a me. Perché te tutte le volte le prendi te. Che vuoi dire? Però poi le mangi te. No, no, no. Questo qui te lo lascio. Profitterò. Insomma, sono due confezioni da 180 grammi. No, da 90 grammi. 1,40 euro. Ok. C'era anche il cheesecake fatto così. Sì. Il cheesecake era nel barattolo di vetro. Quello è di blanco. Poi ho preso gli yogurt questi qua. Cremoso extra. Questo è il pistacchio, mandorle caramellate e questo è bianco con nocciole e cioccolato e costano 55 centesimi. 55, sì. Poi sempre yogurt, però questo qua da bere alla fragola. Mezzo litro. E poi è preso da multifrutti. Multifrutti. Questo qua. Quale sarà? Ah, da bere. Vengono 89. 89 centesimi. L'uno. I vrustel. I vrustel. Questi qua sono di suino. Suino. Prezzo? Come le 99 centesimi? Ah no. 99 centesimi? Eh, sì, sì. No. Scusi. Non mi manco l'è. Che a me mi sembravi più. Vabbè. Vabbè. Poi abbiamo preso il tonno. Tonno all'olio di oliva sono quattro confezioni, quattro barattolini via. Questo costa? Questo non l'ho visto. Tonno 2,89 euro. Poi 1,85 euro il burro pascolo italiani da 250 grammi. Poi. Poi qui. Sale. Sale. Sale pieno, un chilo marino iodato. 39 centesimi. E poi? E' una qua. Non ci si sta più. Ah, 1 euro. Poi ho trovato queste tea light, candeline, sono 50 pezzi pagati. 1,99 euro. Poi abbiamo preso per Tyson le salviettine, queste qua che sono al talco. Sì. Per muso, zampe e manto. 40 salviette, detergono e profumano. Ah, è scritto qua talco. Pagate. Salviette, ecco le qua. 1,79 euro. 99 centesimi in queste prealine con crema al latte e cereali. Arance, quanto? 3,87 euro, no? Mi sembrava che costassero di meno. Vabbè, le arance fanno bene. Eh, fa un po' di spremute. Quanto pesa poi questa? 3 chili. Panini per hot dog. Sono quattro in tutto. Questi costano... Mi pare 69 centesimi. Può darsi. Può darsi. Sì, 69. Poi sempre di pane abbiamo preso quello americano tipo. Sì, American Sandwich. 750 grammi, maxi fette. Questo è buono. 1,09 euro. Io volevo quello mio solito con la farina di... Pan di segane ma non c'era. Pan di segane ma non c'era. Tra l'altro è un'offerta. E poi questo qua di grano duro, pamboletto. Questo costa? 75 centesimi. Siamo quasi alla fine. Funghi champignon, questi sono 350 grammi. Ce la fai anche subito perché sono già un po' sciopati. Questi li abbiamo pagati. 1,19 euro. Poi mini gallette di mais. Questi mi sembrano sui 60 centesimi. Ce ne trovo. 89. 89 centesimi. Poi ho preso le spugnette, i pannetti questi qua a microfibra. 1,99. Sono 5 pezzi. Poi abbiamo preso 2 mozzarella. 2 mozzarella per pizza. Pizzarella. Questa è una delle mie preferite per la pizza. Abbiamo preso 2 da 400 grammi. 1,79 euro. Poi. Poi il pesto. Questo qua senza aglio. Delizio dal sole. 140 grammi. Pagato 1,09 euro forse. Non lo trovo. Sì, più o meno. 1,05 euro. 1,09 euro. 1,09 euro. Abbiamo trovato il prezzo. Poi il broccoletto. Poi il broccoletto. Alberello. Questo. Broccoletto. Questo qua giù. 1,29 euro. E poi? E poi ultimo pezzo. Ma non per rispostanza. Ma neanche ultimo pezzo. Perché ne arriveranno a quantità. Siamo proprio all'inizio. E niente. Andrea ha ceduto. No, Andrea. Chi è che l'ha messo nel carrello? Io non l'avevo neanche visto. Vabbè, comunque Pandoro. Duca. Moscati. Questo però si mangia... A colazione? Sì, fra un mese però. Quanto costa questo? 2,49 euro. Ok. Basta, fine. Questa è stata la nostra mega spesa fatta da Aerospin. Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo nuovo video. Ciao! Ciao!